Buonasera, buonasera cari telespettatori, bentornati ad un'altra settimana. La settimana di A2x2 con il programma che porta direttamente a casa vostra i nostri protagonisti per parlare di argomenti sempre diversi, sempre attuali e sempre molto molto importanti. Diamo il bentornato al nostro commissario della Polizia Locale di Milano, il dottor Gianni Sansonne. Buonasera anche a voi, grazie mille come sempre per l'invito, onorato del vostro invito. Grazie mille a te caro dottore perché so che sei sempre impegnato, sempre in giro per l'Italia perché come abbiamo avuto modo di dire noi siamo onorati della tua presenza perché tu sei quello che in pratica va in giro a spiegare la legge, a far capire come funziona la legge a colleghi, ad altre forze dell'ordine e anche a, mi dicevi prima, agli avvocati, per esempio i giri tribunali. Sì, è capitato anche di fare dei corsi anche in procura, in tribunale, ci tengo però a evidenziare, sottolineare che non voglio insegnare, come l'ho già detto altre volte, non voglio insegnare assolutamente a nessuno. Diciamo che cerco di, mi piace cercare di essere utile analizzando, siccome mi piace analizzare, studiare le varie normative, le varie novità che vengono apportate, ho il piacere di analizzarle il meglio possibile per poter poi condividerle insieme a tutti i miei colleghi di Polizia Stradale. C'è una legge, anzi prima di tutto, prima di cominciare a parlare dell'argomento di questa sera, così poi non ci fermiamo più perché è molto molto importante e riguarda tutti noi, direttamente o indirettamente. Vi ricordo gli appuntamenti di tutta la settimana, la settimana di A2x2Con, quindi oggi c'è il nostro dottor Sansone, domani ci sarà l'esperto di finanza, mercoledì l'avvocato di famiglia, giovedì 1 esperto di risarcimento e venerdì 2 il nutrizionista. E allora adesso veramente possiamo iniziare, caro Sansone, dicevo c'è una legge che è stata molto molto importante allorché ha visto la luce e che ovviamente è sempre giusto tenere in considerazione e vedere tutte le novità. E' quella la legge sugli omicidi stradali, importante che ci sia una legge, importante che venga applicata e voglio dire sempre più all'ordine del giorno perché ogni giorno leggiamo sul giornale di casi di omicidi stradali, purtroppo molto spesso sono coinvolti proprio i giovani, no? E quindi insomma bisogna conoscere bene quello a cui si va incontro in un senso e nell'altro. Dicevo, meno male che c'è questa legge, cosa ne pensi tu? Beh allora, innanzitutto prima di entrare nel merito di questo importante argomento, se mi permetti ad aprire una piccola parentesi, perché visto che voi avete ringraziato me della mia presenza, io ho onorato del vostro invito, però ovviamente ci tengo però sempre a sottolineare che se io sono qua, oltre grazie a voi del vostro invito, è anche perché il mio comando mi ha messo nelle condizioni di poter partecipare, quindi il signor comandante, il dottor Mirabelli, l'assessore alla sicurezza, che comunque sono i primi a voler e hanno a cuore veramente la sicurezza stradale. Ed è il motivo per cui comunque non hanno esitate. Siamo qua a divulgare, eh? Sì, sì, no, no. Ci tenevo a dire questa cosa perché secondo me è meritevole. Certo, infatti come ogni volta ringraziamo e salutiamo tutte le forze della Polizia Locale di Milano, a partire dall'assessore e poi a cascata tutti e tutti gli altri. Detto questo, la legge sulla medicina stradale è sicuramente una tematica particolarmente rilevante, nel senso che è un intervento legislativo che era stato da tutta la cittadinanza auspicato che entrasse in vigore quanto prima. È una legge che è entrata in vigore il 25 marzo del 2016. Sono passati più di sei anni dal suo ingresso, però posso dire che comunque è una tematica che è sempre all'ordine del giorno. Ci sono stati vari interventi anche giurisprudenziali sul tema, anche ultimamente, proprio negli ultimi due mesi, c'è stato un altro intervento comunque del legislatore. Dopo vediamo un attimino qual è stata la portata di questa ulteriore novità introdotta. È una legge che è molto importante. Lungi da me dal commentarla, nel senso che non voglio assolutamente, e non sono nelle condizioni e non sono neanche nella possibilità di poterlo fare, di poter dare un giudizio su questa legge. Sicuramente è un intervento legislativo che era da tutti quanti auspicato. C'è stata questa introduzione da oltre sei anni, con l'estrema finalità di cercare, aumentando una serie di pene previste, la possibilità di poter essere una forma di deterrente nei confronti di condotte illecite che possano poi determinare la configurazione purtroppo di incidenti stradali con esiti particolarmente gravi. Allora, io so benissimo che tu non vuoi mai commentare la legge o entrare in merito, perché ovviamente questo è il mestiere del legislatore e noi facciamo un altro mestiere. Ma siccome sei sul campo da tanti anni e la tua esperienza è preziosa, non si può non notare che questa sia una legge molto molto giovane, una legge recente, sei anni fa, come hai detto tu. Come mai è arrivata così tardi, a tuo avviso? Ma allora, soprattutto perché c'era la volontà di strutturarla meglio possibile e quindi di prevedere un po' tutta una serie di casistiche di fattispecie da analizzare e quindi da prevedere. È una legge che, ripeto, come tutte le cose, ma io so parlo in generale, come tutte le cose possono sempre essere oggetto di miglioramenti, questo sicuramente. Però è già un primo importante intervento del legislatore e ci tengo a evidenziare che nonostante siano trascorsi ormai sei anni e mezzo dalla sua introduzione e proprio per dimostrazione di questa comunque in continua importanza ancora oggi e quindi l'importanza di questa normativa ancora oggi, io per esempio in questo periodo saltuariamente sto facendo ancora dei corsi di formazione rivolta a tutti gli operatori di polizia stradale, per esempio adesso il prossimo weekend sarò a Torino e poi andrò anche a Livigno eccetera e quindi andrò a trattare questa tematica perché questa è una tematica che merita, almeno anche per quanto riguarda gli operatori di polizia stradale, merita di essere analizzata in maniera molto attenta e dettagliata sia a livello teorico che soprattutto operativo, anche perché questa legge, uno degli aspetti rilevanti di questa legge è proprio quella della richiesta di una maggiore professionalità da parte degli operatori di polizia stradale nel momento in cui intervengono per rilevare un incidente stradale, perché soprattutto a seguito di questa introduzione di questa legge diventa importante veramente l'operato e la professionalità di tutti noi, perché noi siamo quelli che tendenzialmente poi rischiano di portare, ahimè, a processo la gente per rischio che le pene sono anche particolarmente gravose, sia a livello penale che a livello comunque amministrativo per quanto riguarda la patente di guida, è richiesto quindi una maggiore attenzione. Quindi per questo che mi stanno invitando con molto piacere ad analizzare questa tematica e cercare di approfondirla in maniera sia teorica che operativa. Allora, chi può incorrere a questo punto nell'applicazione della legge sull'omicidio stradale? Allora, questo qui è un aspetto importante direi, perché è una cosa che io ritengo che sia chiaro a tutti i nostri telespettatori, perché tendenzialmente quando si parla di legge sull'omicidio stradale erroneamente chiunque può fare un diretto collegamento, legge sull'omicidio stradale soltanto al conducente, tra virgolette, anche se tecnicamente, giuridicamente sto dicendo una cosa imprecisa volutamente però, ubriaco o drogato. Allora, quindi tendenzialmente uno pensa, quando si pensa alla legge sull'omicidio stradale si fa un diretto collegamento soltanto al conducente, tra virgolette e ripeto impropriamente da me definiti, ubriachi e drogati. Invece la legge sull'omicidio stradale, quindi mi fa piacere questa tua precisazione, la legge sull'omicidio stradale ha la particolarità invece di interessare qualunque utente della strada. E quando si parla di qualunque utente della strada, pertanto si parla di conducenti di veicoli a motore e non, di pedoni, quindi importanza anche su come si attraversa una strada e quant'altro e soprattutto anche degli antiproprietari delle strade. Sì, però caro Gianni, se noi incappiamo in questo equivoco, è anche perché molto spesso quando leggiamo o quando ascoltiamo le notizie alla radio, al telegiornale, noi sentiamo dell'incidente, della morte magari, perché queste sono le notizie che danno ovviamente quando c'è la morte di qualcuno, e poi subito dopo sentiamo che il conducente guidava in stato di briachezza oppure risulta positivo ai test sulle sostanze stupefacenti, eccetera, eccetera. Quindi il collegamento nasce spontaneo. Assolutamente sì, però quello che io volevo evidenziare è che invece non bisogna fare questo collegamento. Bene, quindi può riguardare tutti, cioè non... Assolutamente, io faccio un esempio pratico. Il primo caso di omicidio stradale che si è verificato a Milano, il giorno dopo la sua introduzione, è stato cagionato da un pedone che ha attraversato con il semaforo rosso. Pedone che ha attraversato con il semaforo rosso, il motociclista per evitare l'impatto con il pedone ha perso il controllo del veicolo, è andato a sbattere, ahimè, contro il palo luce e purtroppo da lì non si è più rialzato. Quindi il primo caso di omicidio stradale, come vedi, per esempio, è stato cagionato da un pedone. Ma io poi vorrei anche farti un altro esempio, perché io prima ho parlato di enti proprietari delle strade. Io ultimamente ho fatto anche degli incontri proprio sul tema della sicurezza stradale e richiamando anche quelli che sono il ruolo importante degli enti proprietari delle strade. Ti faccio un esempio molto pratico, un esempio che ahimè è toccante, ovviamente. Pensiamo al Ponte Morandi. Il Ponte di Genova, il Ponte Morandi, ovviamente è stato una cosa, un disastro, veramente un evento tragico per tutti quanti. Però se ti ricordi, quando è stato, se hai verificato questo evento, c'è stato, nelle prime settimane, c'è stato quindi un rimbalzo delle responsabilità a chi spettasse controllare la efficienza del ponte. Perché questo? Perché quando parliamo del Ponte Morandi, così come possiamo parlare del Ponte di Lecco e via dicendo, quando succedono questi disastri, l'ente proprietario della strada comunque ha un ruolo primario. Perché deve, in essenza dell'articolo 14 del Codice della Strada, l'ente proprietario della strada per esempio è tenuto a garantire l'efficienza stradale, la pulizia delle strade, l'efficienza e la manutenzione della segnaletica stradale, eccetera. Tant'è vero che non per niente, a seguito dell'evento del Ponte Morandi, tra i vari indagati abbiamo numerosi indagati che sono stati indagati proprio per omicidio stradale. Cioè uno può pensare erroneamente, quando c'è il crollo del ponte, estremamente un evento estremamente grave, pericoloso e che purtroppo ha portato alla morte di numerosi innocenti. Però quando si pensa al Ponte Morandi, per esempio il primo collegamento è il disastro, ovviamente. È passato in secondo piano che in realtà stiamo parlando anche di omicidio stradale, proprio perché a seguito di una violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale si è venuto a determinare quindi la configurazione del reato dell'omicidio stradale. Tant'è vero che, proprio per farti notare, la normativa parla genericamente di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Questo inciso, questa terminologia utilizzata dal legislatore, è stato un modo per andare a inglobare nell'applicazione della legge sull'omicidio stradale di qualsiasi utente della strada, tra cui per esempio l'ente proprietario della strada. Tant'è vero che non per niente, dopo pochi mesi dalla sua introduzione, era stata fatta anche una lettera alla loro ex ministra Alfano, chiedendo spiegazioni in merito, perché nasceva questa grande preoccupazione dell'ente proprietario della strada. Quindi, quando parliamo di legge sull'omicidio stradale, dove per legge sull'omicidio stradale noi facciamo riferimento a due ipotesi di reato. Omicidio stradale, quindi un evento che in violazione delle norme sulla circolazione stradale è stato cagionato per colpa alla morte di una persona. Ma quando si parla di legge sull'omicidio stradale, si parla anche delle lesioni personali stradali gravi e gravissime. E a questi due reati possono incorrere qualsiasi utente della strada, quindi conducenti di veicoli, pedoni, ente proprietario della strada. Ma io ci voglio aggiungere anche una quarta categoria, se quarta categoria si può chiamare, che sono proprio gli operatori di polizia stradale. Perché non dimentichiamoci che la legge sull'omicidio stradale può andare a interessare anche noi, quindi durante l'attività istituzionale di servizi di polizia stradale, noi non godiamo giustamente di alcuna immunità. Quindi anche noi possiamo incorrere nell'applicazione della legge sull'omicidio stradale. Nella legge sull'omicidio stradale possono incorrere tutti, quindi qualsiasi utente della strada... È sulla strada. È sulla strada che ha cagionato. Oppure era responsabile del mantenimento di quella strada, come per esempio... Ognuno per il proprio ambito di competenza. Quindi è una legge che possa piacere o meno o quant'altro, sicuramente sarà oggetto di miglioramenti, tutto quello che si vuole. Ma è una legge che viene applicata a qualunque utente della strada. Quindi la prima cosa che non dobbiamo commettere l'errore è quello di ricollegare erroneamente la legge sull'omicidio stradale solo al conducente ubriaco o drogato. E l'altra cosa che abbiamo capito è che si chiama legge sull'omicidio stradale, ma ovviamente regola anche altri danni, come possono essere le lesioni, lesioni gravi, lesioni gravissime. Esattamente, perché legge sull'omicidio stradale, le due nuove ipotesi di reato che sono state introdotte sono l'articolo 589 bis, omicidio stradale, quindi incidente con esito mortale, nonché l'articolo 590 bis, che è lesioni personali stradali gravi e gravissime. Ok. Cosa succedeva prima di questa legge? Se qualcuno faceva davvero male male a una persona, amici come prima? No, assolutamente no. Allora, diciamo che fino al 25 marzo, fino al 24 marzo, perché da 25 è entrata in vigore la legge sull'omicidio stradale, fino al 24 marzo del 2016, l'eventuale morte o lesioni gravi e gravissime cagionate a seguito delle violazioni della norma sulla disciplina della circolazione stradale, facevano parte, erano incluse, all'interno di due reati generici, che era l'articolo 589, omicidio colposo, e 590, lesioni personali colpose. Quindi il legislatore ha voluto aggravare la posizione. Bravissima, esattamente, brava, complimenti, perché lo scopo del nostro legislatore era quello di andare a abrogare quei riferimenti, quei richiami all'interno di norme generiche, omicidio colposo, per esempio, al fine di introdurre un reato autonomo, omicidio stradale. Quindi estrapolare da una norma generica una norma specifica. Lo scopo di questa introduzione di una norma specifica aveva una duplice finalità. Innanzitutto quella di dire abbiamo introdotto la legge sul domicidio stradale, ma soprattutto perché prevedendo una norma specifica si aveva la possibilità anche di andare ad aggravare quelle che erano gli apparati sanzionatori. Abbiamo detto prima che non è rivolta solo a chi ha assunto droga, solo a chi ha assunto alcol ed è alterato. Ma queste due situazioni sono un aggravante o davanti poi al fatto siamo tutti uguali? No, 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 assolutamente no. Assolutamente no. Ovviamente che cosa succede? che il fatto di aver cagionato per colpa l'eventuale morte o lesioni gravi gravissime in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Se a cagionare questi eventi dovesse essere un conducente che ha fatto uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, ovviamente queste qua sono delle cosiddette circostanze aggravanti e quindi ovviamente prevedono anche delle pene particolarmente gravi. Cioè, tieni conto che la legge sulla medicina stradale con i due nuovi reati i due nuovi reati prevedono cinque casistiche. Di queste cinque casistiche tre fanno riferimento alla guida in stato di ebrezza e all'uso di alcol. L'assunzione di sostanze stupefacenti. Chiedo scusa. Nel caso dell'omicidio stradale, quindi esito mortale, dove abbiamo detto ci sono cinque casistiche, tre fanno riferimento al 186 guida in stato di ebrezza o 187 guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. Su queste tre casistiche in due casi c'è anche l'arresto obbligatorio. Questo proprio per andare a far capire che ovviamente nel momento in cui stiamo in presenza di un'eventuale positività della guida in stato di ebrezza o della guida in stato di alterazione a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovviamente queste sono delle circostanze aggravanti che addirittura possono prevedere anche l'arresto obbligatorio. Possono prevedere o è obbligatorio? No, prevedere l'arresto obbligatorio. L'omicidio stradale prevede cinque casistiche, in tre casistiche c'è l'arresto facoltativo, in due c'è l'arresto obbligatorio. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui si viene a configurare quell'evento è obbligatorio procedere subito con l'arresto delle persone. Ok. Quanto dura questo arresto? Perché il nostro telespettatore scrive, allora perché leggiamo come anche nell'ultimo caso a Roma di quel ragazzo molto giovane che la ragazza era ubriaca ma dopo pochi giorni era già a casa? Adesso qua entriamo tenendo conto che stiamo parlando sempre di misure pre-cautelari. Pre-cautelari. Quindi stiamo parlando di misure pre-cautelari. Prima del processo in parole podere. Esattamente. Poi ovviamente bisogna necessariamente attendere la conclusione del procedimento penale perché non dimentichiamoci che comunque fino a prova contraria la persona viene considerata sempre comunque innocente fino a nuova dimostrazione. E quindi ovvio che qua stiamo parlando di delle misure pre-cautelari in attesa del procedimento penale. È vero che il legislatore richiede per questi tipi di reati che ci sia un processo anche abbastanza breve? Non vuole che ci sia... Allora tendenzialmente sì però proprio per fare capire anche un aspetto rilevante che proprio per fare comprendere come il legislatore ha a cuore questa tematica tra le varie modifiche che sono state apportate con l'introduzione della legge sull'omicidio stradale dove abbiamo avuto un incremento delle pene un incremento anche delle sanzioni sulla patente di guida molto gravose che dopo di cui dopo parliamo eccetera. Adesso parleremo? Però per esempio proprio per non fare vanificare la portata sanzionatoria di queste leggi per esempio per la legge sull'omicidio stradale una delle importanti novità che sono state introdotte è stata la modifica dell'articolo 157 del codice di procedura penale in tema di e termini di prescrizione quindi per i termini di prescrizione del reato che ahimè quante volte sentiamo alla televisione di reati che ormai sono stati oggetto di prescrizione quindi la persona non può essere punita invece per la legge per l'omicidio stradale i termini di prescrizione sono stati oggetto di raddoppio quindi proprio per tutelare in tutte le maniere quello che è la portata sanzionatoria della nuova normativa bene e questa è già una buona notizia allora andiamo in pubblicità e poi iniziamo a vedere di che cosa si parla questa legge in cosa si è tradotta a livello di pene e di sanzioni pubblicità per noi eccoci qua torniamo in diretta lo facciamo con il nostro dottor commissario Gianni Sansone della polizia locale di Milano stiamo parlando con lui di un reato quello del delitto dell'omicidio stradale che davvero prevede delle pene per fortuna molto molto grandi e gravi per chi lo commette quindi ci siamo lasciati un po' con questa suspense chi si rende così chi si rende esecutore di un omicidio stradale che cosa rischia beh allora le pene in caso di omicidio stradale quindi con esito mortale possono variare dall'ipotesi base che poi era la pena prevista nella vecchia normativa quella che era si parlava di norma generica che va da un minimo di due a un massimo di sette anni poi abbiamo le casistiche più gravi le casistiche più gravi ovvero se il conducente dovesse risultare positivo alla guida in stato autorebrezza con il tasso alcolemico più grave quindi superiore a uno e mezzo oppure qualora dovesse risultare in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché per quanto riguarda i conducenti professionali adibiti al trasporto di persone e cose o di conducenti di veicoli di una certa dimensione giusto per essere chiaro autoarticolati autosnodati mezzi pubblici eccetera qualora dovesse risultare positivi alla seconda fascia del 186 quindi superiore a 08 fino a 1.5 è previsto una reclusione da 8 a 12 anni nonché poi le importanti ulteriori sanzioni invece per quanto riguarda la patente poi invece per tutti gli altri conducenti che non sono conducenti professionali qualora dovessero cagionare per colpa la morte e risultando positivi altresì anche al 186 comma 2 lettera B ovvero superiore a 08 fino a 1.5 la reclusione va da 5 a 10 anni nonché la stessa pena è prevista in caso di commissione di particolari condotte pericolose vedi il sorpasso azzardato vedi l'unosservanza semaforica nell'area di intersezione l'inversione di marcia tutte queste condotte particolarmente gravi anche queste prevedono una pena che va da 5 a 10 anni quindi abbiamo dalla piccola la media diciamo l'ipotesi base che va da 2 a 7 anni poi abbiamo da 8 a 12 anni per i fatti più gravi e poi da 5 a 10 anni quindi a livello di pene sicuramente sono delle pene che sono particolarmente rilevanti ovviamente sono delle pene che possono essere applicate e combinate però in serie di condanna quindi il nostro telespettatore amico da casa che ci chiedeva come mai uno è già perché quello che viene applicato inizialmente è una misura pre-cautelare poi bisogna attendere quello che sono il procedimento penale tenendo conto che poi ci sono ahimè in un caso c'è anche l'attenuante eccetera quindi poi bisogna andare ad analizzare bene la cosa e poi il giudice farà il suo lavoro che cosa succede se a provocare l'omicidio stradale a un giovane allora se a cagionare quindi la legge sull'omicidio stradale l'evento è un dovesse essere un ragazzo giovane non ci sono delle pene diverse rispetto a quelle previste per tutti gli altri l'unica differenza consiste per i minori di anni 18 perché se a cagionare per colpa l'evento morte o lesioni gravi gravissime dovesse essere un minore di anni 18 allora in quel caso non sarebbe applicabile almeno inizialmente parlo poi se gli ricondanno è un'altra cosa ma almeno inizialmente il minore di anni 18 per un reato colposo non può essere assoggettato né all'arresto né al fermo di indiziato di delitto ok invece Gianni per quanto riguarda sempre i giovani noi abbiamo imparato grazie a te che se si rendono responsabili di guida in stato di ebrezza di assunzione di sostanze stufefacenti e vengono pizzicati allora che anche non combinino guai questo per loro prevede dei guai però sulla patente perché magari viene ritirata per più tempo eccetera eccetera cosa succede sulla patente se dovessero procurare morte lesioni allora per quanto riguarda la patente le sanzioni sono particolarmente gravi sono particolarmente gravose ecco su questo sicuramente sì inizialmente quando era stata introdotta la legge sull'omicidio stradale era stato previsto per esempio che in attesa della conclusione del procedimento penale la patente e questo ancora oggi può essere oggetto di sospensione provvisoria fino a un massimo di 5 anni prorogabile fino a 10 qualora la sentenza definitiva ancora non dovesse essere giunta quando era stata introdotta la legge sull'omicidio stradale una grande novità proprio a livello sanzionatorio era che in caso di condanna ma in questo caso senza fare alcuna distinzione tra le nostre 5 casistiche perché noi abbiamo detto che abbiamo 5 casistiche per l'omicidio stradale 5 casistiche per le lesioni gravi gravissime hanno una struttura particolarmente simmetrica il primo caso è l'ipotesi base l'ipotesi base che può incorrere qualunque soggetto qualunque utente della strada anche un pedone anche un conducente di un velocipede anche lente proprietario della strada e anche un conducente di veicoli a motore gli ultimi quattro casi invece il secondo terzo quarto e quinto fanno invece riferimento soltanto ai conducenti di veicoli a motore che prevedono le cosiddette fattispecie aggravate da alcune determinate circostanze aggravate tra cui la guida in stato di ebrezza e per esempio l'uso di droghe in maniera molto diretta voglio essere diretto con i nostri telespettatori quello che prevedeva la legge al momento dell'introduzione era che a condanna in tutte queste cinque casistiche se a cagionare per colpa l'evento morte o lesioni gravi gravissime fosse stato un conducente di un veicolo a motore che richiede la titolarità di una patente a condanna senza alcuna distinzione delle cinque casistiche era prevista la revoca automatica della patente di guida quindi a condanna revoca che comporta l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida italiana da un minimo di cinque a un massimo di trent'anni quindi si parlava non per niente si parlava e si parla ancora oggi di quella che è un po' la cosiddetta ergastolo della patente di guida poi è intervenuto la corte costituzionale il 19 e 20 febbraio del 2019 è intervenuta la corte costituzionale dichiarando che prevedere in maniera automatica la revoca della patente in maniera indistinta per tutte le cinque casistiche senza fare alcuna distinzione se uno abbia bevuto o meno senza fare distinzione che uno era sotto gli effetti delle sostanze superfacenti o meno è stato giudicato dalla corte costituzionale un diciamo un provvedimento di disparità di trattamento quindi questa disparità di trattamento ha comportato con la pronuncia della corte costituzionale il 19 febbraio del 2019 che la revoca automatica si hanno soltanto nei due casi più gravi lasciando il giudice negli altri tre casi una valutazione di revocare o di sospendere la patente di guida nel caso però si dovesse giungere a revoca o automatica nei due casi più gravi o a valutazione del giudice negli altri tre casi in caso di revoca un soggetto non può conseguire una nuova patente di guida da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni a seconda della casistica e qua io però desidero richiamare un'importante un'importante in novità che è stata introdotta con la legge sull'omicidio stradale questo io lo ritengo veramente un un provvedimento importantissimo che va a tutela della legalità che va a tutela della della garanzia e della pena e quant'altro ed è il discorso che per la prima volta no per la prima volta anche chi è titolare di una patente italiana oltre al provvedimento di revoca viene anche emesso un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale cosa vuol dire questo giusto per essere un po' chiaro con i cittadini c'è necessità ovviamente non lo metto in dubbio allora cosa succede che negli aspetti un po' generici quando a uno gli viene revocata la patente di guida al di fuori della legge sull'omicidio stradale la patente italiana viene revocata ok ma uno può andare in Francia Romania Bulgaria Germania in Spagna Portogallo in un altro qualsiasi stato dell'Unione Europea a conseguire una patente nel relativo stato e poi guidare in Italia perché questo è un modo per raggirare il provvedimento di revoca perché in caso di revoca viene soltanto revocata la patente di guida con il provvedimento di inibizione alla guida invece che generalmente è un provvedimento che è stato introdotto nel lontano 19 gennaio del 2013 con il decreto legislativo 59 del 2011 secondo quelli che erano i principi di una direttiva europea del 2006 cosa era emerso da questo provvedimento europeo che il prefetto non ha la competenza per sospendere o revocare documenti esteri perché perché il prefetto può prendere dei provvedimenti soltanto che hanno una validità soltanto sul territorio nazionale di competenza quindi in sostituzione della revoca o della sospensione è stato introdotto per chi è titolare di patente estera un provvedimento di inibizione alla guida che cos'è il provvedimento di inibizione alla guida il provvedimento di inibizione alla guida io mi faccio le domande e mi faccio anche le risposte immagino chiedo scusa no fai bene però che cosa succede che cos'è questo provvedimento questo provvedimento con questo provvedimento la persona il Sansonne Gianni di turno non può guidare in Italia per un determinato periodo di tempo a prescindere da che tipo di patente abbia quindi torniamo al nostro esempio e quindi il Sansonne Gianni si trasferisce in Francia perché allora cosa succede che generalmente se un soggetto titolare di patente italiana gli viene revocata la patente di guida italiana non può conseguire una patente italiana per esempio per due anni ok però se uno va in Francia in Spagna Germania Romania Bulgaria eccetera e consegue una patente comunitaria lui può circolare in Italia perché il prefetto gli ha revocato la patente non gli ha inibito di guidare in Italia invece con la legge sull'omicidio stradale la grande novità che è stata introdotta è che qualora un soggetto titolare di patente italiana venga condannato per la legge sull'omicidio stradale e gli venga combinata come sanzione dal giudice penale la revoca della patente unitamente alla revoca della patente gli viene emesso un provvedimento di inibizione alla guida per quanto tempo questo provvedimento per il tempo necessario per poter conseguire una patente italiana quindi per esempio siccome la legge sull'omicidio stradale in caso di revoca prevede l'impossibilità di conseguire una patente italiana da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni se ad essere condannato è un soggetto titolare di patente italiana oltre al provvedimento di revoca e quindi non potrà conseguire la patente da 5 a 30 anni oltre al provvedimento di revoca per tutelare la portata normativa sanzionatoria perché altrimenti verrebbe vanificato quello che è l'apparato sanzionatorio della legge sull'omicidio stradale contestualmente al provvedimento di revoca viene anche emesso un provvedimento di inibizione alla guida quindi vuol dire che quel soggetto anche se va a conseguire una patente in Francia in Germania in Romania in Bulgaria e dove vuole lui lui in Italia non può guidare quindi vuol dire che con il provvedimento di inibizione alla guida anche in quel caso lui da 5 a 30 anni non potrà guidare sul territorio nazionale e mi rendo conto che 30 anni si parla sì di un ergastolo della patente perché poniamo caso che a provocare l'incidente sia un guidatore di 30 anni me la sospendono per 30 anni quasi quasi arrivo che numerare rinnovano il problema è che quando è stata introdotta questa normativa abbiamo detto che la legge sull'omicidio stradale prevede due fattispecie di reato diverse omicidio stradale quindi incidente con esito mortale e lesioni gravi e gravissime cosa succede che abbiamo detto che a questo incidente a questi due reati può incorrere qualunque utente della strada ok il problema dove sta quando era stata introdotta la revoca automatica della patente in effetti e qui meno male che c'è stato l'intervento tra virgolette anche della corte costituzionale perché raggiungere le lesioni gravi è abbastanza semplice perché quando si parla per esempio per andare a semplificare gli ascoltatori a casa le lesioni gravi stiamo parlando comunque di lesioni che sono superiori a 40 giorni per esempio poi ci sono altre casistiche lo sfregio del viso l'arto l'indebolimento tutto quello che si vuole ma sono altre casistiche quindi vuol dire che a seguito di un tamponamento dove magari la prima prognosi è di 25 giorni con la seconda quando io dopo i 25 giorni vado ancora dal medico e me ne faccio dare altri 16 io arrivo a 41 certo e quello diventa un incidente con lesioni gravi gravissime perché sono superiori ai 40 giorni tu prova a pensare in autostrada un un tear un autoarticolato che e dovesse tamponare un veicolo qualche lesione purtroppo le cagiona e proviamo a immaginare a questi soggetti che lavorano con la patente di guida quindi ovviamente questo qua comporterebbe dei gravi danni lascia stare Gianni che io mentre tu parlavi non solo per gli autisti che ci lavorano però pensavo all'italiano medio a meno che non abiti proprio a Milano dove i mezzi sono veramente efficienti o in qualche altra grande città forse ti dicono no mettimi in galera piuttosto due anni ma non mi portare via la patente c'era un detto di un carissimo amico che infatti dice un amico collega che diceva che quasi quasi no è solo di costruttore in base alle pene che sono previste a livello proprio così particolarmente corposo che quasi quasi è meglio uno dire che sono state delle lesioni volontarie piuttosto che un incidente stradale certo certo allora questo qua diciamo delle pene che sono particolarmente gravi è un modo ahimè perché questo è un po' la deterrenza perché prova a immaginare ogni volta che si parla di una novità normativa del codice no la prima cosa che mi chiedono quando magari amici parenti zii quello che siano e mi chiedono ma che cosa questa norma qua che cosa rischio con questa norma quindi il primo pensiero ahimè di noi italiani tendenzialmente non è quello di dire adesso c'è una norma che mi dice che io non devo fare una determinata cosa no il nostro primo pensiero è che cosa rischio cosa succede se io trasgredisco certo questo qua invece è una cosa che non deve essere che non va bene guarda infatti ci tengo a dire una cosa che posso aprire una piccola parentesi perché con molto piacere io ho visto che anche i miei nipotini seguono questa trasmissione e la cosa bella è che io quando torno a casa loro mi ripetono no quello che è stato un po' l'argomento della giornata e quindi io dico a loro ma parlo di miei nipotini ma come per dire anche tutti gli altri non guardiamo che cosa comporta una determinata violazione ma cerchiamo di rispettarle perché questo è il modo per poter rispettare la propria vita e la vita degli altri la vita degli altri ovviamente era solamente per far capire che davvero si rischia tanto anche a livello di ammenda di patente e questo per farci guidare in maniera sempre più prudente senza pensare poi al male che possiamo causare purtroppo non sempre quando si sbaglia ahimè molte volte si dice vabbè hai sbagliato vedrai che domani non lo rifai più purtroppo quando si parla di veicoli a motore soprattutto per i conducenti ma così come per il pedone che attraversa la strada in maniera irregolare cioè dobbiamo capire che è vero il pedone per esempio è sicuramente un utente debole della strada che deve essere sicuramente tutelato ma questo non significa che possa fare quello che vuole allora il problema è questo che molte volte adesso non voglio fare eccessivamente il moralista lungi da me però molte volte bisogna capire che molte volte si va a dire ah bene oggi hai sbagliato prendilo come insegnamento e domani vedrai che non lo rifarei più il problema invece è che quando si parla di legge sull'omicidio stradale ahimè non sempre si può tornare in dire sempre c'è un domani su queste parole sagge più della sua età sono sagge queste parole io saluto e ringrazio il nostro commissario Sansone grazie a voi e lo invito già per l'anno prossimo grazie grazie mille davvero veramente di cuore sempre a te per la tua gentilezza per l'invito e ringrazio comunque anche i telespettatori che ci seguono numerosissimi quando ci sei tu e questo qua mi fa estremamente piacere io spero di poter essere nel mio piccolo utile anche a tutti loro e colgo l'occasione a te e a tutti i nostri telespettatori anche comunque di fare gli auguri di buon Natale buon anno sperando che ci siano aspetti positivi da poter da poter festeggiare e parlare e parlarne l'anno prossimo sicuramente grazie ancora al commissario Sansone con voi l'appuntamento è per domani adesso la linea Corraltg a domani grazie a tutti Grazie.